Allora, il gioco si chiama... Allora, il gioco si chiama... Allora, il gioco si chiama... In pratica ci sono due squadre... Allora, il gioco si chiama... Allora, il gioco si chiama... Una se le temi qua, l'altra qua... E' un gioco... 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 Si posiziona dalla terza della sala... Quindi tipo... E' così... E... Tipo... Dissert... Si mette... La... E... E... Adesso si... E... Il giudice fa una domanda, cioè, abbastanza, uoh, perché? E, niente, quindi una persona alla volta, parte per riprendere in mano, corre dal suo compagno che è di là, e, niente, il giudice fa una domanda, tipo una domanda, e, no, è così, e quello che fa l'attenzione è non scrivere la risposta sul corpo del compagno, e poi, vabbè, chi ha scritto, cioè, adesso si può fare un po' le ore che ti ha scritto, però, per esempio, si può fare che il primo che risponde, prese un punto, però, dico, i libri che scrivono, i due, cioè, devono fare in modo di non vedere, e, no, e, sono tirati uno da una parte, uno dall'altro, ma non lì è già finito il scavo. Aspetta un esempio... Allora... Alicure, adesso si alza. Brava! Allora... Allora... Come è la festa con questa tabluna? Eh... Vogliamo... Vi averciuto la mia tela. No, no! Eh? No, no, è qui! Aspetta... Adesso arriva o va nel fondo? Guarda! Guarda! Allora! Ok, bella! Adesso lui che era il compagno di casa di Alicure prende il pennarello Prende, sì! Ehi, ragazzi, ci saremmo tutti venti con la giuda al capo e cantare il figlio agli miei miei... No, no! Aspetta un' alt Nocia! Se vuoi la stima è libera. Oh, tipo. Ecco, l'altro strato lo scriverai sicuramente più da un sordio perché lo sognare è di distribuire i guanti. Cioè, deve andare a tenere in casa a casa e quando la mettiamo questo giorno dopo le nonna dividerci in istituzione, fa male. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Oh, va bene. C'è un po' più dentro direi. Grazie. Grazie.